... ... ... ... ... ... ... ... ... No, le voglio... Le voglio filmare tutte perché... se mi danno l'autorizzazione no, no, li mandi su Youtube li metti riprendo la Elia c'è la Monica è lì che ti guarda è lì, è lì, è lì, è lì è lì, è lì è lì, è lì, è lì è lì, è lì, è lì, è lì, è lì è lì, è lì, è lì, è lì, è lìa Grazie a tutti.